Allora, chiedo alla regia se magari mi può mettere in onda il messaggio che è arrivato prima, che non avevo neanche letto, non avevo fatto un tempo a leggere, vediamo un attimo di commentarlo insieme, almeno mi sembra di non averlo letto, stiamo parlando sempre di questioni differenti tra mercato libero e mercato tutela, dove conviene e dove non conviene, perché le persone guardano sempre un po' la convenienza, però anche se c'è a qualità del servizio, devo registrarmi al registro delle opposizioni, alla fine lo fanno lo stesso e comunque è il diritto al suo rovescio, dovrebbero loro chiamare solo previo consenso mio del registro del consenso, purtroppo non avviene questo discorso, ahi noi. Non è migliorata la cosa, però non siamo ancora a una condizione di dire siamo tranquilli, ma neanche un po'. Perché molto semplicemente uno fa l'istanza di registrazione alle opposizioni, ma poi magari chiede un finanziamento per comprare un televisore, scrive di nuovo il cellulare e presta il consenso all'utilizzo di dati per fini commerciali e la macchina riparte, quindi rimane quel 20% cui si diceva prima di telefonate, ripartono da lì. Cioè senza fine. Sarebbe questa cosa della vendita di questi numeri di telefono anche di cellulare andrebbe un po' ordinata perché in effetti… Sì, ma c'è un fiorire di un commercio occulto di numeri telefonici, indirizzi, di civici che non ne avete nemmeno l'idea. Eh no, no, ma abbiamo l'idea. Molto spesso come dire dipendenti infedeli che provvedono a vendere i dati che lavorano per altre ragioni ovviamente. Ecco, lei Presidente ha detto qualità dell'azienda che fornisce il servizio di erogazione, quindi la giro lì, quali sono gli elementi perché il cittadino che ci ascolta dice come faccio a sapere la qualità, che cos'è, l'antenore che opera sul territorio, che fa anche un sacco di beneficenza sostanzialmente… Allora, utilizzare il meno possibile quindi che rompessero un po' le scatole anche loro ai distributori quando non comunicano le letture, intanto. Secondo, la precisione nella fatturazione. Terzo, fare in modo che la consapevolezza cresca nel rapporto tra il consumatore e l'azienda, la stessa azienda che eroga il servizio. Perché prima veniva ricordato, anche giustamente se vogliamo, le persone fatte di un servizio che faticano a imparare, faticano a conoscere, ed è vero, però nel momento in cui si è acquisito il cliente, lo si vede dopo quanto? Certo. Questa è la qualità. Ci sono imprese che un po' alla volta capiscono che c'è la necessità, che ne so, per fare una verifica di tensione sull'abitazione, che non è il venditore che la fa, ma il venditore ha forza da chiedere al distributore, vuoi dare un'occhiata se la tensione che erogate là è quella corretta? Per ogni tanto noi ne abbiamo in tutti i colori, se bruse le lampadine, se bruse i frigoriferi, quindi vengono da noi, ma perché è successo questo? Siamo costretti noi, con i nostri tecnici, ad andare nella casa, mettere dei vali, vogliono un attimo solo che adesso quindi la giriamo da Filippo Agostini, leggo i due ultimi messaggi se magari la regia me li può mettere in onda, allora, sapete cosa mi ha risposto un gestore blasonato nazionale a un mio problema di liquidità? Niente, non sono riuscito a parlare con nessuno, lo sapevamo. Il messaggio precedente, vediamo un attimo anche questo, così dopo rispondo in blocco a tutti quanti. Perché si sente parlare così male di gestori anche noti, alternativi a quelli di maggior tutela? Per motivi come costi nascosti, trabocchetti sui contratti, eccetera. Grazie Fabio. Agostini? Sì. Allora, comunicazione della lettura, fatturazioni precise, consapevolezza, quindi qualità del servizio. Ma esatto, esatto, il gioco sta tutto lì, in realtà noi dovremmo essere contrapposti ad altri consumi in qualche maniera, visto che le società di mercato libero sono così poco precise, ma proprio è lo scopo e l'obiettivo della società di vendita di gas e luce, se vuole fare questo in maniera seria e sostituirsi al mercato tutela, è proprio non incappare in questi errori, cioè le misure che siano mensili, che siano le letture. Perché danneggiano riprese serie, quelli che si comportano male. Sì, perché comunque noi le misure per l'energia elettrica dei consumi le acquisiamo in maniera telematica dal distributore, il distributore è il medesimo che dà le misure al mercato tutela, l'importante è che vengano prese, elaborate e riportate in bolletta, se invece una società di vendita di dubbio e capacità fattura sempre in acconto e guarda caso sempre in più rispetto al reale è perché sta ricorrendo finanza, non sta facendo il proprio mestiere. quindi sono tutte tecniche, tutte cose che chi è serio lo fa, chi non è serio magari non lo fa. E danneggia quelli seri come sempre. I costi nascosti, che c'era l'altra mail o messaggio che è arrivato, va verificata, l'offerta sulla tariffa nuova di gas e luce deve essere ricevuta sempre per iscritto e valetta nella sua interezza. Una volta che è dato per soldato che la tariffazione è 6 centesimi a kilowatt monorario e che poi c'è tutta la manfrina sul dispacciamento, gestione contatore che deve essere uguale per tutti, quindi c'è scritto nell'offerta che ci si riporta ai valori della Rera, poi non ci devono essere costi aggiuntivi, che ne so, che mi viene da dire il nome, card mia 5 euro al mese, assicurazione sul frigorifero oppure che la quota fissa invece che quella della Rera è di 18 euro. Cioè quello non ci deve essere, è difficile comprensione però una volta che abbiamo una bolletta e soprattutto non quella 2.0 che è riassuntiva, ci si fa spedire quella analitica e si va o dall'associazione consumatori o da una società seria come Antenore per farsi fare la valutazione. Noi troviamo anche competitor che lavorano in maniera seria, come acquisiamo anche clientela che non sapeva di aver firmato che doveva pagare 10 euro fissi in più per aver aderito al PUN fisso, adesso ne invento il nome. Certo, perfetto. Allora il tempo è volato, magari vi riavremo ancora in trasmissione. Un'ultima considerazione, in caso di contenzioso ci sono strumenti validissimi che è la conciliazione paritetica oppure la conciliazione istituzionale fatta con l'acquirente unico che è la lunga mano di Rera che consente ai consumatori di avere giustizia rispetto alle cose che ho visto anche negli ultimi due messaggi che sono arrivati. Perfetto, allora Adi Consum grazie di essere stato qui con noi, Walter Rigo, auguri e buon lavoro, so che ne avete tanto, responsabile del Nazionale Energia. Filippo Agostini, Antenone Energia, buon lavoro anche a voi, so che ne avete, siete impegnatissimi come sempre anche a sostegno delle tante fondazioni e società e anche col vostro no profit che nel Natale fa tanto bene, ne parleremo magari ancora. Ci rivedremo con i nostri interlocutori perché a gennaio, visto che c'è questo momento di passaggio importante, per dare altre informazioni. Grazie e grazie a voi tre spettatori di aver partecipato, noi ci rivediamo dopo poco. Sì, voi... Grazie. Grazie a tutti.